Un capodanno nell'agro nocerino sarnese per l'ex premier Enrico Letta, ospite del suo fraterno amico Guglielmo Vaccaro ha trascorso la notte di San Silvestro con sua moglie e i suoi tre bimbi a casa Vaccaro. Ieri mattina invece è il primo giorno dell'anno passeggiata e partita di bocce a Scafati poi la Santa Messa a Pompei. È un legame, insomma ormai sono vent'anni, abbiamo fatto sempre tutto insieme e mi ha fatto conoscere la bellezza di queste terre, tante campagne elettorali, adesso che ho lasciato la politica e che mi occupo di università, il mio lavoro a Parigi, la volontà anche di rivedere e di far vedere ai miei figli delle terre, figli che sono abbastanza piccoli, far riscoprire delle terre bellissime, quindi oggi a Pompei. E poi siamo arrivati a Scafati da Matera perché volevo fargli vedere Matera, capitale italiana della cultura del 2019, ne abbiamo fatto due giorni a Matera, poi siamo risaliti, siamo venuti qui, bellissimo, bellissimi fuochi d'artificio ovviamente, bellissimo tutto, ho mangiato benissimo, insomma la verità è che quando sto qui sto sempre bene, questo è il punto. Io colgo subito la palla al balzo, lei diceva Matera, capitale della cultura, qui c'è una candidatura importante in Lizza, quella di Ravello, capitale europea della cultura per il 2020. La candidatura di Ravello è una candidatura fortissima, oggettivamente fortissima, secondo me è molto intelligente perché è un modo per far sì che ogni posto si industri a cercare idee nuove con le quali mettere in campo nuovi progetti, nuove iniziative e drenare risorse, far impegnare la gente, mi sembra un ottimo tipo di modalità con la quale far venire fuori idee nuove di attrattività turistica. Qui si sconta il fatto che il sud del mezzogiorno sia negli ultimi tempi scomparso completamente dall'agenda politica di questo paese. È impossibile continuare con questa logica per cui il sud è uscito dall'agenda complessiva del nostro paese. Io mi auguro invece che il sud sia al centro di questa agenda, mi auguro che la prossima campagna elettorale lo rimetta al centro e mi auguro invece che questa marginalizzazione del discorso sul mezzogiorno, delle idee nuove sul mezzogiorno finisca perché senza lo sviluppo del mezzogiorno l'Italia non recupererà il terreno perduto. Senza lo sviluppo del mezzogiorno l'Italia non ce la farà, l'Italia non può avere delle locomotive al nord che trainano dei vagoni che non hanno nessuna chance. L'Italia ce la farà solamente se ci sono tante locomotive, alcune al nord e alcune al sud e bisogna lavorare su queste locomotive del mezzogiorno. In serata incontro tra amici per parlare tra l'altro di Europa e del suo ultimo libro Contro venti e maree nel quale Enrico Letta lancia un appello a vivere le tempeste dell'Europa post Brexit come una straordinaria occasione per rilanciare l'Unione Europea. Non ha desinato di ricordare come in questo momento si allontano dalla politica attiva uscito da Palazzo Chigi, si dimise anche dal Parlamento italiano accettando invece l'ambiziosa sfida della formazione dei giovani della nuova classe dirigente italiana ed europea ma ha ricordato come pur deluso resti un elettore del centro-sinistra. Io ho fatto una scelta dopo molti anni di impegno politico di dedicarmi principalmente oggi alla mia professione e ai giovani, agli studenti. La passione rimane, da cittadino rimango un elettore anche se con tantissima preoccupazione per il futuro, un elettore del centro-sinistra in Italia, però sono interessato a vedere le cose, a capire quello che succede, a capire quale futuro europeo può essere dato all'Italia, quale Europa può essere costruita. Mi fermo qui, ma questa preoccupazione per il nostro paese mi rimane molto forte e io lavorando oggi soprattutto sull'educazione dei giovani attraverso la scuola di politica e poi che è l'altra parte del mio lavoro che ho creato per dei giovani italiani che è un modo per dare a questi giovani italiani la possibilità di crescere, di avvicinarsi se vogliono alla politica. Insomma, tutte cose che vogliono dire che io non sono più un parlamentare, non sono più in Parlamento, ma da cittadino mi impegno e mi impegno moltissimo per il nostro paese e per i giovani del nostro paese. Ed a suggello della sua rimpatriata in una terra dove, come ha ricordato Volentieri ritorna, un omaggio gliel'ha riservato uno dei cultori della musica partenopea, il maestro Espedito De Marino. La parola è la voce dei criaturi, che sai, giano giano, e tu sai che non ci sono. La parola è la voce dei criaturi, che sai, giano, e tu sai che non ci sono.